Dalla mountain bike alla city bike, dalla bici vintage a quella per bambini, ce n'è davvero per tutti i gusti. Le immagini che vi mostriamo si riferiscono infatti a un centinaio di biciclette ritrovate da un'operazione congiunta della polizia locale dell'Unione Pia del Bruscolo e dalla guardia costiera di Pesaro. Bici che nei giorni scorsi sono state sequestrate da un magazzino della zona industriale di via Toscana, dando seguito ad una indagine coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro partita lo scorso mese di luglio. Periodo estivo in cui le indagini della guardia costiera su errati smaltimenti di rifiuti avevano portato all'individuazione anche di queste tante bici ammassate, molte delle quali in buono stato. In questi tre mesi le bici sono rimaste sotto sequestro all'interno del magazzino ma nel frattempo si è costruito un impianto accusatorio i cui accertamenti abbinati alla verifica delle denunce di bici rubate ha portato ad un addebito di ricettazione per il proprietario dell'immobile che non ha saputo giustificare la provenienza delle biciclette. Ora le bici sono state trasferite in un deposito individuato dal GIP del Tribunale. Già alcune di queste sono state restituite legittimi proprietari che avevano sporto denuncia di furto. Chi avesse subito analoghi furti può verificare se c'è pure la propria bici fra quelle ritrovate consultando il sito delle comune di Pesaro.